La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 32976 dei deputati Fedriga ed altri concernente iniziative di competenza per assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione e allontanamento degli stranieri irregolari. La parola al collega Allasia, prego. Grazie Presidente, grazie al Ministro. Oramai non è più solo una nostra percezione, ma secondo un'inchiesta giornalistica apparsa qualche giorno fa su un quotidiano La Repubblica, negli ultimi anni il sistema delle espulsioni e degli allontanamenti si è rilevato del tutto fallimentare riguardo all'effettivo rimpaccio degli stranieri irregolari in generale e in particolare di quelli che hanno commesso dei reati o subito condanne in Italia, a differenza dei altri Paesi europei, vedasi la Germania, la Francia, la Spagna, stando infatti ai numeri riportati nell'articolo nel 2016, cittadini e stranieri intracciati in posizione irregolare sarebbero stati ben 4.500, con un notevole e costante incremento rispetto ai precedenti anni, circa 7.000 rispetto al 2015, 10.000 rispetto al 2014. Quale intenzione e iniziativa intende adottare al fine di garantire il trattenimento di tutti gli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale, ma soprattutto, ma quale effettiva dei provvedimenti di espulsione e allontanamenti disposti nei confronti sia dei cittadini, dei Paesi terzi che comunitari? La ringrazio. La parola al Ministro dell'Interno Marco Minniti, prego. Grazie, signor Presidente, onorevoli deputati. Il contrasto dell'immigrazione irregolare e rimpatri costituiscono aspetti cruciali del programma che il Governo sta portando avanti in questo scorcio di legislatura, come ho avuto modo di rappresentare in vari interventi nelle aule parlamentari, come ho avuto modo di rappresentare in vari interventi nelle aule parlamentari, sia in risposta a interrogazioni come quella di oggi che nel corso di audizioni davanti ai vari organismi collegiali, sul punto il Governo ha adottato una linea di assoluta determinazione, accogliere e integrare chi ha titolo alla protezione internazionale umanitaria e rimpatriare chi non ne ha diritto o viola le regole. Riguardo a quest'ultimo aspetto, sono consapevole che il rimpatrio è un addempimento più impegnativo e complesso della mera consegna di un foglio di via, più precisamente di un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni in esecuzione di un decreto di espulsione emesso dal prefetto competente. E tuttavia riportare nel Paese di provenienza che non ha i requisiti per rimanere in Italia resta un obiettivo prioritario da realizzare ovviamente nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e in condizioni di civiltà. A tal fine riferisco che il Governo ha adottato e sta adottando varie iniziative in linea con il piano d'azione presentato dall'Unione Europea lo scorso 2 marzo, contenente una serie di raccomandazioni agli Stati membri su come rendere più efficaci le procedure di rimpatrio. Con riferimento ai soggetti più pericolosi, ricordo con il decreto legge numero 13 convertito dalla legge il 13 aprile 2017, nelle scorse settimane sono stati istituiti i centri permanenti per il rimpatrio allo scopo di rendere più efficace l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione con una finalizzazione più immediata al rimpatrio forzato proprio delle persone che sono potenzialmente pericolose per la sicurezza del Paese. L'impegno in questa direzione è testimoniato dall'ultimo dato relativo alle espulsioni per motivi di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica che ha registrato un forte incremento. Nei primi quattro mesi del 2017 ne sono state complessivamente effettuate 36 a fronte delle 13 eseguite nello stesso periodo dello scorso anno e parliamo di rimpatri effettivi. Rispondendo ad una specifica sollecitazione contenuta nell'interrogazione evidenzio altresì che il decreto legge è intervenuto anche sui tempi di permanenza nei centri per il rimpatrio dello straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie. Il termine di 30 giorni è ora prorogabile di ulteriori 15 giorni quando sussistono condizioni di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Il rafforzamento delle politiche di rimpatrio è un percorso che non può prescindere tuttavia da un'attività di carattere internazionale che abbia come obiettivo la conclusione di accordi e protocolli operativi in tema di riammissioni con i paesi di origine di transito dei flussi migratori che presentino adeguati standard in tema di salvaguardia e tutela dei diritti. Sono stati siglati nel tempo, io ho finito Presidente, diversi accordi in tal senso. Si tratta ora di realizzarli e renderli pienamente operativi e negoziarli alcuni nuovi. In questa direzione sono in corso trattative con i paesi, cito in particolare il Niger, la Tunisia, soprattutto con quest'ultimo paese intercorrono intensi e proficui contatti a livello di esperti ministeriali volti a rafforzare la cooperazione bilaterale e a snellire le procedure di identificazione dei migranti. Grazie. La ringrazio. A facoltà di replicare il deputato all'Asia. Prego. Grazie Presidente, ma indubbiamente la risposta è molto, come sempre, a queste risposte molto irregolare, dato che o è la nostra calcolatrice o quella di Repubblica che non funziona, o è la sua, o è quella del Ministero, perché la somma non dà i risultati che lei cita qua sempre, costantemente. Perché continuiamo a vedere che da un lato lo dice l'Europa, lo chiede l'Europa e viene attuato immediatamente, vedasi la legge Fornero, o dall'altra parte direttive europee, come quella del 2008, in cui si pone che gli stati membri si obblighino il rimpacchio coatto per i cittadini stranieri che vengono considerati irregolari e abbiano anche una posizione verso la legge non limpida, in cui se dobbiamo fare semplicemente due casi, Amri e Igor, due non connazionali, due immigrati clandestini, irregolari, con fogli di via in tasca che hanno commesso e reiterato dei reati, in cui non solo quelli, ma ne guardiamo decine, se non centinaia, Torino, immigrati, aggredisce e deruba una donna arrestato, africani ubriachi e devastano auto dei residenti, solo e esclusivamente nella mia città, Torino, immigrati marocchino completamente ubriaco, si denuncia, si denuda il parco, tutti immigrati, clandestini, irregolari, più delle volte che avevano anche commesso altri reati con fogli di via in tasca che continuano a permanere sul nostro territorio e la casistica si aumenta, senza andare a guardare poi nel CIE lo scorso novembre in cui alcuni immigrati hanno messo sotto sopra la città e il governo oggi continua a dire e non sappiamo cosa poter fare di questi problemi. State continuando a tirare a campare, fate una cosa sacrosanta che ha detto anche ieri Mattarella, facciamo questa legge elettorale velocemente e andiamo al più presto al voto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.